La camminata sui carboni Intanto sentite freddo ai piedi, meglio sentire freddo che caldo Quindi rimarrei qui adesso, così intanto i piedi si raffreddano L'acqua fa vapore soltanto L'acqua non si va a buttare, non deve dare solo l'acqua Allora io non vi garantisco che non vi bruciate Il fastidio può essere nella pianta del piede dove la pelle è più delicata Al massimo a me sono venute qualche vescica Non c'è niente che ti azioppa Comunque sì, partire decisi, non fermarsi Al massimo uscite laterali